Se nel 1492 Cristoforo Colombo non si aspettava mica di scoprire l'America, io posso dire similmente che a 18 anni approdai in un mondo nuovo. Ma quale mondo? Aspettami un attimo e ti spiego. Hai mai pensato a qualcosa che ti possa cambiare la vita o che riesca a dare senso al tuo vivere? Pensi sia un quesito da sognatrice o da idealista? Quando a 18 anni appresi per la prima volta il significato della parola volontariato e l'ho messo in pratica, non avrei mai potuto pensare che questa esperienza avrebbe cambiato il corso della mia quotidianità e del mio futuro. Un po' come certi eventi che nella storia sono stati rivoluzionari appunto. Sono stata come inondata da una corrente che ha cominciato a farmi vedere con occhi nuovi tutto quello che mi circondava. Ti posso dire che alcune cose non le ho proprio capite, altre non le capirò mai e non so neanche spiegartele o descrivertele, ma alcune cose le ho capite. Ho sperimentato una cosa così semplice, allo stesso tempo così grande e banale, ma l'ho colta solo a partire da quell'esperienza, ovvero ogni persona può fare la differenza e dare un contributo positivo a questo mondo. Tutti possiamo cambiare il mondo. Pensi sia velleitaria? Ti sbagli, sono invece molto concreta. Non importano gli strumenti, il grado di scolarizzazione o le difficoltà. Nel quotidiano ognuno può migliorare la comunità in cui vive e la qualità di vita degli altri e la propria, semplicemente lasciando dentro di sé un po' di spazio per gli altri, spostando l'attenzione da noi stessi per rivolgerla a chi ci circonda, a chi è prossimo, prestando attenzione a chi rimane ai margini. E ho capito che la vita e i vissuti di tante persone ti attraversano, ti trafiggono, ti arricchiscono e tutto diventa dono. Provare per credere, te lo assicuro.